Non mi nascondo che domenica mattina ho condiviso questo testo a Casale di Princi e avevo deciso di riproporlo anche questa sera, quindi non c'è un accordo a priori, ma crediamo assieme che attraverso queste sollecitazioni speriamo e preghiamo che il Signore possa compiere la sua opera nella nostra vita. Quelli che invece hanno la possibilità di rincorrermi o essere rincorsi attraverso i social network avranno notato che qualche giorno fa chiedevo appunto su uno dei gruppi che cura su Facebook cosa potessero rappresentare le due monete, i due denari che il samaritano, perché noi lo definiamo buono perché ci piace quello che ha fatto, ma la parabola non lo chiama buono, parla di un samaritano. Poi è il nostro giudizio nei suoi confronti, per noi il samaritano è buono e gli altri due sono cattivi, che noi subito facciamo, subito etichettiamo le persone, però se entriamo nel testo, che non mi vado a rileggere, i due che noi chiamiamo cattivi, il sacerdote e il levita, avevano le loro ragioni per passare dall'altra parte e avevano delle ragioni legate alla loro fede, era il loro giudaismo, la loro fede e osservanza della legge mosaica che comandava loro di non toccare il sangue di un uomo. Se avessero toccato le ferite di quell'uomo sarebbero entrambi stati, secondo la legge di Mosè, dichiarati impuri e quindi il sacerdote non avrebbe più potuto svolgere per un certo periodo il servizio al Tempio e il levita, che era un collaboratore del sacerdote, non sappiamo se era proprio collaboratore di quel sacerdote, non avrebbe potuto fare altrettanto. Allora dietro questa parabola c'è un chiaro insegnamento. Gesù parla con un dottore della legge e solo l'evangelista Luke, riferito a determinati personaggi, utilizza l'espressione dottore della legge. Questo non era un titolo riconosciuto nell'Israele del Tempio, non era il ministerio di dottore che menzionerà l'apostolo Paolo citando quelli che per lui sono i ministeri che Gesù Cristo ha dato alla Chiesa. Probabilmente Gesù ha di fronte un fariseo, un osservante della legge e per essere osservante era un conoscitore ed era conoscitore a tal punto da insegnare ad altri. Costui, abbiamo ascoltato dal testo, andò da Gesù e gli fece una domanda ben precisa. cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Ed è la stessa domanda che fece Gesù un altro cosiddetto dottore della legge, ricordate? Nicodemo. Che cosa chiese Nicodemo a Gesù? Cosa devo fare per avere la vita eterna per entrare nel regno dei cieli? A Nicodemo Gesù ebbe a dire devi nascere di nuovo di acqua e di spirito. A costui però dice una cosa diversa. Allora qualcuno potrebbe ritenere che ci sono diverse strade per giungere al regno dei cieli. Il punto invece è che Gesù parla con ciascuno di noi a secondo di quello che noi conosciamo ma anche a secondo di quello che abbiamo nel cuore. Perché quando noi ci relazioniamo con Dio andiamo con un bagaglio, andiamo con delle aspettative, andiamo con delle nostre certezze. Ci aspettiamo che Dio, che Gesù in questo caso dall'altra parte confermino quello che noi abbiamo dentro al nostro cuore. E allora Gesù che cosa fa? Che cosa fa con questo uomo? Non risponde alla sua domanda. Ma così come fa spesso nei racconti del Vangelo, Gesù risponde ponendo un'altra domanda. Cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Quante risposte avrebbe potuto dare costui? Avrebbe potuto cominciare a menzionare l'interrodecalogo, a sfogliare pagine del libro dell'Esodo, del Levitico, dei numeri, che erano comunque i libri letti, conosciuti e insegnati. Invece costui si limita ad una citazione del libro del Deuteronomio, ad una citazione che per i giudei stava a rappresentare il succo della legge. Infatti Gesù gli chiede cosa sta scritto nella legge e lui risponde in maniera saggia. Se fosse stato a scuola sarebbe stato promosso perché la sua risposta è la risposta più precisa che poteva dare. Cita un solo verso che sintetizza l'intero insegnamento della legge mosaica. Ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. È il prossimo tuo come te stesso. Io sono convinto che quando quest'uomo ha menzionato questo testo ci ha messo enfasi, ci ha messo passione, avrà chiuso gli occhi, l'avrà aggridato perché quella era la fede del suo cuore. Però Gesù gli dice bravo, esatto, poi aggiunge fallo. È stato molto educato dire fallo o forse era meglio fargli un'altra domanda? Perché fallo? E vivrai. Gesù sta dicendo a quest'uomo passa dalla conoscenza mentale, passa anche dalla conoscenza del tuo cuore, passa dalle tue convinzioni, passa dalla teoria alla pratica. E costui non è stupido, anzi è molto ricettivo immediatamente. Poi pone un'altra domanda a Gesù. Sembra quasi di assistere a un dibattito, a una discussione, ma non c'è vena di discussione, di polemica. Ci sono domande che cercano di zittire l'interlocutore. perché quando tu fai una domanda e chi ti sta di fronte non ti risponde, vuol dire che a quella domanda non ha risposta, non è in grado di risponderti e quindi ti è inferiore. Allora lui ha risposto, Gesù gli ha detto bravo, esatto, fallo. Ma lui non si può fermare perché dietro quel fallo, io vi ho detto c'era la domanda, ma perché non lo fai? E allora lui non risponde alla domanda, ma pone un'altra domanda. Ma nella domanda che fa Gesù sta dicendo a noi che Gesù ci aveva azzeccato, perché la sua domanda qual è? Chi è il mio prossimo? A dire, seppur lo volessi fare, chi è che devo amare con tutta la mia forza, con tutta la mia mente, con tutta la mia forza. A chi devo dedicare le mie risorse? Stava provando a nascondersi e ci capita spesso. Perciò io a volte dico che quando ci relazioniamo con Dio è meglio rimanere in silenzio e lasciare che sia soltanto Lui a parlare e noi restiamo ad ascoltare. Perché se ci mettiamo a controbattere il Signore, vengono fuori tutte le nostre malefatte, tutte le nostre incapacità, perché il Signore ci ama, però se lo provochiamo, alza il lenzuolo, scopre tutto quello che noi con tanta cura cerchiamo di tenere ben ben nascosto, messo da parte. Chi è il mio prossimo? Gesù. Poteva fargli una lezione, Gesù. Poteva aprirgli la legge di cui lui era dottore e citargli altri dieci, venti, trenta versi della scrittura. Menzionargli gli orfani, le vedove, i forestieri, tutte le persone a cui fa riferimento la legge di Mosè, i poveri del popolo. Ci sono centinaia, centinaia diversi che descrivono chi è il prossimo. Ma ciò che Gesù cerca di far capire a quest'uomo nel raccontargli la storiella che noi abbiamo vista in scenata è questo. La domanda del dottore è chi è il mio prossimo per dire io non vedo nessuno. Il prossimo è qualcuno a cui io devo far qualcosa, ma intorno a me io non vedo nessuno. Gesù racconta la storia e poi gli pone la domanda. Quale di questi tre ti pare sia stato il prossimo dell'uomo? Di quello che era caduto nelle mani dei ladroni? Il prossimo non è il disgraziato. Il prossimo non è la persona che viene aiutata. Nella spiegazione di Gesù il prossimo è colui che aiuta. Vi lascio qualche istante per mettere a fuoco questo punto che viene fuori da questo testo. Il dottore chiede a Gesù chi è il mio prossimo. Gesù racconta la storia e ci dice che noi dobbiamo fare un'altra domanda che è questa. Io a chi sono prossimo? A chi posso aiutare? Perché nel momento in cui io aiuto qualcuno sto dicendo a quel qualcuno non tu sei il mio prossimo, ma io sono il tuo prossimo. L'azione che parte dalla legge, l'azione che parte dalla conoscenza, l'azione che parte dalla mente, l'azione di colui che vuol conquistare dei meriti davanti a Dio è quello di apparire il soccorritore, dove il prossimo è il disgraziato, il bisognoso, il diseredato, l'emarginato, la persona che ha necessità di ricevere aiuto e questo fa sentire chi porta aiuto superiore e mette in soggezione colui che viene aiutato. Invece Gesù ribalta la situazione e dice il disgraziato, il bisognoso è uno strumento per farti rendere estensione delle mani di Dio. L'incontrare una persona che è nel bisogno dona a te la possibilità non di amare il prossimo, ma di diventare il prossimo, di essere tu stesso il prossimo dell'altro. Questo tipo di ragionamento mette sullo stesso livello chi aiuta e chi viene aiutato. Ritorniamo alla storia. Una persona scende da Gerusalemme verso Gerico su una strada che a quei tempi era zona di affarucci delinquenziali, era zona dove oggi si rubano, rubano le macchine, fanno le rapine, attenzione quando fate quella strada, non la fate mai da sole, non la fate in determinate ore. Così era quella strada che da Gerusalemme andava verso Gerico. E nonostante fosse una strada poco raccomandabile, su quella strada ci capita un disgraziato, ma ci capita un sacerdote, ci capita un levito e ci capita un samaritano per dire che sulle vie del mondo ci passano tutti quanti. Sulle vie del peccato ci passano tutti quanti. Sulle vie delle disgrazie delle disgrazie ci passano tutti quanti, i buoni, i cattivi, i belli e i brutti. Però non a tutti capita di fare brutte esperienze. Su quattro di loro è capitata uno solo. E la storia ci dice che di questi quattro uno è il disgraziato e tre sono il suo prossimo. La mentalità del dottore invece diceva tre sono quelli buoni, uno è il prossimo che deve essere aiutato. Dio vede sempre le cose in maniera contraria a come le vediamo noi. È passato il sacerdote, aveva le sue ragioni per evitarlo. Gesù non condanna il sacerdote, Gesù non dice il sacerdote ha sbagliato, non dice il sacerdote non entrerà nel regno dei cieli. Ma chiede il sacerdote è stato il prossimo del disgraziato? E la risposta qual è? No. È passato il Levita che ha le ragioni simili a quelle del sacerdote, però siccome il Levita non era un pubblico ufficiale religioso, se voleva, poteva. Se il sacerdote è colui che è schiavo della legge, che è condizionato dalle regole, che è condizionato dalle norme, il Levita è quello che aiuta il sacerdote, per cui una mano lava l'altro, un occhio non vede l'altro. Però anche lui è scrupoloso, chissà, forse perché è passato immediatamente dopo il sacerdote o quando lui è arrivato il sacerdote era ancora lungo la strada e avrà pensato se mi fermo e quello si gira. Dopo che faccio? Cosa penserà? Lo stavo aiutando o lo stavo finendo di derubare? Lo stavo finendo di uccidere o lo volevo rianimare? Sai cosa c'è di nuovo? Ora faccio il giro alla larga pure io. E poi passa un samaritano. Da Gerusalemme a Gerico il samaritano è fuori luogo. Stava su una strada che non era la sua. E allora forse la parabola ci dice che chissà quante volte ci troviamo in un posto che non avevamo previsto. Ci ritroviamo a fare una strada che non avevamo calcolato di fare. E noi pensiamo mi so trovato al posto sbagliato. Probabilmente qualcuno ci ha posto in quel luogo che a noi sembrava sbagliato ma che probabilmente serviva per farci manifestare come prossimo a qualcuno. Il samaritano nell'incrociare il disgraziato. Non dice ma io non sono di questo posto. Ci devono pensare quelli di questo posto. Ma io non faccio parte di questa chiesa. Che ci pensassero i pastori della chiesa. Ma io non faccio parte di questo progetto Iedro. Che ci pensassero i responsabili di questo progetto Iedro. Ma io mi trovo qua per sbaglio. Mi ci hanno portato questa sera e neanche ci volevo venire. Ma che cosa accade? Quando nel cuore ci sono dei buoni sentimenti. Quando nel cuore c'è del tenero esplode la compassione. Davanti a un uomo bisognoso d'aiuto. Davanti a un uomo in fin di vita il samaritano non ragiona con la testa ma ragiona col cuore. E la scrittura ci dice lo vide e ne ebbe compassione. Pure gli altri due lo avevano visto ma in loro non si era mossa la compassione. Erano rimasti indifferenti. Erano rimasti egoisti. Erano rimasti preoccupati a se stessi. Erano rimasti condizionati dalla legge. Erano rimasti schiavi delle regole. La compassione non ha regole. La compassione non ha norme da osservare. Gesù è venuto a morire per noi perché ha avuto compassione di noi. Se Gesù non avesse avuto compassione avrebbe potuto dire al padre ma gli hai dato la legge che siano giudicati per mezzo della legge. Gesù invece ci ha amati al punto di dare se stesso. Al punto di andare contro quella che era anche la legge. Anzi la scrittura dice che egli è venuto ad adempierla. Egli è venuto a darle compimento perché nelle nostre mani la legge rimaneva un testo freddo. Era una condanna per tutti quanti noi. Il samaritano ha compassione. Rispetto agli altri due non camminava a piedi. Vi mancava il cavallo stasera? O l'asina? Non lo so. Il dromedario? Scegliete voi. Una tigre? No. La scrittura dice che nella vera compassione innanzitutto lo medica perché il vino e l'olio erano una specie di kit di pronto soccorso che i viaggiatori portavano a presso per disinfettare e lenire. Non c'erano spray, non c'era l'aso, il lemato, il mercurio, cromo e tutta sta roba qua. No. C'era solo vino e olio senza sale. Vino e olio. Lo medica, lo cura per quello che può e poi lo conduce alla prima locanda. Ecco l'azione a cui siamo chiamati tutti quanti noi come prossimo. non aspettare che quello che possiamo fare noi lo facciano sempre gli altri. Quel che possiamo fare lo dobbiamo fare. Così come lo fa questo samaritano che fa quello che nelle sue possibilità c'è l'olio, c'è il vino, lo usa. C'è il cavallo, usa il suo cavallo, scende dal cavallo e mette quest'uomo sulla sua cavalcatura. Si guarda attorno. Non so quanto distante sia questa locanda ma lo conduce in una locanda, in un luogo di ospitalità. E che cosa fa? lo affida al padrone, all'ocandiere, ai suoi impegni, alle sue ragioni di continuare il viaggio. Ma si assume un impegno. Io te lo affido. Però ritorno. Vengo a vedere come sta. vengo a chiedere a te notizie di Lui. Non gli ha detto pensaci tu. Qui viene il difficile. Perché fare il bene costa. Ecco perché a molti non piace fare il bene. Ma lo si vuole solo ricevere. Ma la scrittura ci dice che quello che vogliamo venga fatto a noi o quello che non vogliamo sia fatto a noi non lo dobbiamo fare agli altri. Quindi quello che vogliamo sia fatto a noi facciamolo noi agli altri. Anche perché Gesù ci ha detto date e vi sarà dato. Nella misura in cui misurate agli altri sarà misurato a voi. Allora costui non ha esitato a mettere la mano nella sua tasca. Si è fatto un calcolo in base alle ferite che aveva. Dice questo avrà bisogno di una settimana, di dieci giorni. Qua stanno due denari. Non sappiamo se era tutto quello che aveva o se era quello che bastava per le cure. Ma ha dato al padrone della locanda due denari. A quanto ammontano oggi due denari? E' molto semplice. Sono duecentoni. Cifratone. Duecento euro. Allora io vi chiedo oggi con duecento euro cosa ci fate? A qualcuna mangiare e bere un po' di cure? Vogliamo fare trenta quaranta euro al giorno? E che ci si fa? Una settimana di cure? Poi ci sta chi con duecento euro. Dura anche un mese una famiglia intera. Questi sono i miracoli di Dio. Però costui prende due denari e li dà allo candiere. E nel dargli soldi dice una delle più belle frasi della Bibbia. Prenditi cura di Lui. E gli affida i soldi. Questi sono per Lui. In questo piccolissimo testo c'è il mandato di Cristo alla Chiesa. Prendersi cura di chi è nel bisogno. Ma non da un livello superiore. Essendo il prossimo di chi è nel bisogno. E come? Sapendo che il Signore ci ha dato due denari. Così come quel samaritano diede due denari. Allora con qualcuno su internet abbiamo provato a sciarvellarci. Perché due non uno? Perché non tre? Perché non quattro, cinque? Proprio due. Io non posso non ricordare un testo della scrittura. Perché cercate di interpretare sempre la Bibbia con la Bibbia. Due? Continuatelo. Due? Due valgono più di uno. Gesù non ci ha dato mai uno. Perché uno sa di poco. Uno ti fa dire ma nel momento in cui lo spendo rimango senza niente. Uno ti farà sempre esitare nell'azione. Ma il fatto di sapere che qualsiasi cosa Dio mette nelle tue mani è doppio. Tu avrai sempre il coraggio di dire va bene uno lo spendo se mi va male ne tengo un altro. Ma se mi va bene i due diventano tre, quattro, cinque e così via. Egli ha sovranamente abbondato dice un testo di Corinzi. Egli ci ha dato la sua grazia senza misura. L'azione di Dio nei nostri confronti non è una, ma è due. Qualcuno dirà ma due è come uno. Ragionate in questi termini. Due è il doppio di uno. Il Signore non ci dona mai le cose su misura. La sua azione nei nostri confronti non è mai a sufficienza. Ma come minimo è al doppio. Minimo è al doppio. A Pietro ebbe dire cento volte tante. Era Pietro, scusatemi. Sennò che Pietro era. A noi ci basta due. Ci basta sapere che l'azione di Dio è abbondante. E il sapere che Dio ci ha affidato qualcosa della sua grazia, della sua misura, ci deve dare il coraggio di prenderci cura. prenditi cura di Lui e tutto quello che spenderai in più. Ma come, pastore Erpiti, hai detto poc'anzi che il Signore ci dono senza misura, che quello che Lui ci dà basta, che Lui ci ha dato il doppio. Ma nel prenderci cura non dobbiamo ragionare con i numeri. Non dobbiamo fare i conti in tasca. Non dobbiamo dire oggi ho dato quello che poteva dare, se ne parla tra un mese. La scrittura ci dice tutto quello che spenderai, ogni sforzo che farai in più. Non vedete il discorso solamente in termini economici. Tutto ciò che noi riusciamo a diffondere, a profondere per l'opera di Dio, per l'azione di grazia, di misericordia, per raggiungere chi è nel bisogno, la scrittura ci dice tutto quello che tu darai in più non andrà perduto. Quando io ritorno, te lo ridarò tutto quanto. Seminare per l'opera di Dio è investire per il regno dei Cieli. Spendersi per la salvezza delle animi, spendersi per la salute spirituale dei fratelli e delle sorelle. Non è uno sforzo vano. Questo non fa crescere i nostri meriti di salvezza, ma questo manifesta a Dio che in noi c'è lo stesso amore e la stessa misericordia che Lui ha avuto per ciascuno di noi. Così come Egli ha amato noi, noi dobbiamo amare gli altri. Senza calcoli, senza ragionamenti, senza guardare l'orologio, senza dire ma oggi non ce la faccio, possiamo fare un altro giorno. Tutto quello che darai in più ti sarà restituito. E solo a questo punto Gesù domanda al Dottore Chi è di questi tre il prossimo? Ama il prossimo tuo come te stesso. Allora se il prossimo sono io, so da dove devo partire. Se io amo me stesso e so che nella misura in cui amo me stesso, io sono il prossimo, so allora che cosa devo fare agli altri. Faccio un esempio molto banale. Se io mangio un determinato tipo di pasta, quando vado ad aiutare il mio fratello, non gli posso dare lo scarto della pasta. È duro questo parlare? Se io dono per me determinate cose, quando vado a donare agli altri, devo usare la stessa misura. Altrimenti non sto amando il prossimo come amo me. Tanta differenza. E così come la faccio io, un giorno la potrebbe fare lui con me. Perché dice nella misura in cui misuri. Se fai il pidocchio con gli altri. E ribadisco. Il discorso non è esclusivamente economico. Stiamo parlando di come si manifesta la compassione. Di come si manifesta la misericordia. Di che cosa vuol dire essere un buon samaritano. Cosa vuol dire fermarci ad aiutare chi è nel bisogno. Signore aiutaci. Aiutaci. A mettere in pratica. Perché ci accorgiamo che è difficile. Ma si può fare. Tutto quello che la nostra coscienza dice è difficile il nostro spirito deve ribadire col Signore si può fare. perché se lo facciamo agli altri lui lo fa a noi. che la misericordia di Dio bagni i nostri cuori. Che la compassione avvolga la Chiesa. Perché gli altri guardando alle nostre comunità stanno facendo della loro predicazione Misericordia e compassione. Noi non vogliamo predicare misericordia e compassione. La misericordia e la compassione non vanno predicate. vanno praticate. Praticate. Però per praticarle ogni tanto c'è bisogno che qualcuno le predichi. Signore aiutaci. Dio vi benedica. Vi invito ad alzarvi. E quello disse colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora ci disse va e fa lo stesso. Non del sacerdote delle vite. Perché potrebbe venire la tentazione di dire come sai cambio strada. Signore aiutaci a comportarci come il samaritano. Vogliamo chinare il nostro capo e ringraziamo insieme il Signore.